Non sanno aprire le porte, dicemi che non sanno aprire le porte Se sanno nuotare anche aprire le porte è la fine Fogne tiepide, cosa ho detto? Fogne umide, ce l'ho quasi Ritati con l'anore, grazie Ah, devo tirare fuori Oh, giusto a te c'è il cavo Non mi sembra stia funzionando Ah sì, funziona, chiedo scusa Mario Qui dove si va? Non vi negherò di essere mi spaventato un pelo Un pochino mi son caccato addosso Sto usando tanti steelback C'è un altro Quello è seduto tipo Ah, pensavo fosse seduto tipo a prendersi una tazza di tè Delle fogne tiepide Grande posto di ritrovo per fare amicizia Con piccoli gratitali No, su dieci devo farne per avere la cosa bonus E luce fu Mi piace molto di più il fatto che la luce sia bianca e non verde come in Fallout 4 È troppo fastidiosa, vero? In my humble opinion La verga del potere Media, quanto odi a chi? Tra l'altro, per curiosità Wow Verità Dov'è? Scienza? 25, ok, siamo a metà Ma non volevo attivare le torrette A meno che le torrette mi sparino Mi sparano? Spetta l'avevo vista Se non mi sparano va bene Se serviva attivarla per far sparare addosso agli altri E' uguale Anzi, meglio di no Perché io devo testare Uh, costa tanto Oh, ok, ok, ok Volevo giusto vedere se mi sparavi Eh, sì La risposta è sì Sono troppo veloce per te Questo è Ti ho dato la pace Lasciando parte della tua testa Da una parte del corridoio E l'altra parte qua Si può definire Dove hanno il collo i ratti talpa Cioè In realtà sono Più vicini a Marizio Costanzo Che a A un ratto O a una talpa Prendo tutto Per il fatto che poi riparo Anche se adesso sono sopra Il peso Calma 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 Esattamente Siamo arrivati a 12 E Armi Ho preso il fucile A canna e mozze Che ne avevo già uno Che posso riparare con l'altro E adesso fa un pochino più di danno Ecco Qui ci sono già stato Questa sarà uscita? No Perché mi segna il nemico dietro Oh Prova bestiale questa arma Devo dire che Moira Fatto su lo sa Ultime parole famose Non me lo sentirete mai più dire Rattitalp Benvenuti alla Rattitalp Costanzo Show Non sapevo che c'è una torretta Posso buttarla giù? Aspettate che mi sto grattando Ok Torretta versione 1 Zero e zero Perché ho zero? Dici Perché ho beccato il muro Ecco perché Dove si è finito? Perché magari volevo Persa per sempre? O c'è la possibilità di recuperare Quello che aveva la torretta? Rest in peace Persa E con peace intendo peace Pezzi Sfattaggio rapido Ci sono già stato qui Sono tutti morti e privi di carne Non ci credo alla fine Mi trovo sempre In una cazzo di metropolitana Rossa No non puoi scappare Mine Mine Ho fatto una cagata Sto stronzo Capito? Veniva facendosi sentire Sapeva la mia tattica Sapeva che un vero uomo Si affronta con la mazza Da baseball in faccia Palord Ho finito i rattitalpa O me ne manca ancora Tipo uno Su altri sette E non mi dice il counter Quanto sono Sto pezzo De merda Fatemi mangiare un po' di carne Di rattitalpa che vuoi proprio fame Allora per me ci ubriamo anche l'acqua sporca Ok Merda Perchè non salta la mina lui? Perchè non salta la mina con lui? Non mi piace questo gioco Non è corretto Quindi qua E' Jason Chiave Cosa fa la quantum? Ah restituisce punti azione Mi avevo scredito Ho solo 6 steam pack Devo fare attenzione A fare l'idiota così tanto Ad andare avanti Ok Salvataggio rapido Perchè al momento Quante ce ne sono? Dimmi che non te chiro qua giù Ok F5 Sempre e comunque F5 Bella Qua dietro Ditemi che non ce ne sono Ho sempre Si era già acceso Perchè spegnendolo Ho guadagnato 10 punti esperienza Secondo voi Mi sapeva di zona Con qualcosa di interessante Da raccogliere invece Ah perchè Il fucile da cecchino Non mi da soddisfazione Usarci anche lo spava assieme Preferisco Essere io a dire L'ho beccato Invece con la mazza da baseball Si Che non ha senso Come ragionamento Qua non ce ne dovrebbero essere Finiti al mine Nel dubbio risalvo Avrò salvato 15 volte Che bello quando si trovano un po' di munizioni Il problema è che Mi sa che mi sono finiti i rati d'alta E' ora di farti a fare Cosa Cazzo vuoi Spegliato quartiere Ti faccio avvicinare Perchè la tua testa E' che voglio vedere rotolare Un po' di mine Per il più ho troppe mine Non userò mai Ah puoi uscire d'assalto Adesso ci ripariamo l'altro E Potevo aspettare Questo è il suo occhio Ah posso cercare nel suo occhio Come adoro fall out Tira puni porchi Ok adesso sistemiamo un attimo il peso Mi piace di più per il spike Posso ripararla con l'altra Beh arriva 12 E equipaggio questa Cappello Casco Elmo Buttiamo questo Come si muta la testa a destra Quanto ho di peso? 205 Dunque Non voglio buttare Ah ok Devo riparare le cose Avete ragione Posso ripararlo? No Però non lo voglio lasciare qua C'è combattimento Fa 31 E usa Cartuccia Ah c'è anche lancia fiamme Che non intendo usare Perché ho paura Ho tante mine Che potrei cacciarne qualcuna Però si rendono bene forse Aspetta Facciamo una cosa intelligente Prima di buttare via tutto E non c'è più cibo comunque C'è poco da cacciare Cose stupide da cacciare C'è siano del cibo Ha senso tenerlo Non c'è niente comunque Lancia fiamme Lo butto Here we go Bitch Che soddisfazione è stata Fare le squadre del cervello Oh si E ho visto che c'è un altro Lì per tag Comunque io mi fiderei Degli steampunk Presi In decessi pubblici In una metropolitana Dici credo che ti sia accorto di me Ti stavi girando dall'altra parte Credo nel mio bisogno Guardatelo Satanotus Non perdona nessuno Satanotus non perdona Sì potrei bere da lavandino In effetti Ho anche tanti radaway Prendo un attimo Quello di adesso riesco a ripararmi Oh si Riesco a ripararmi tutto Perché non posso A 7.41 E Ciao Guardo E' vuoto E' vuoto Cassaforte Mi serve una chiave Che è quella del tipo Che ho ammazzato prima Sì posso ripararci l'altra Aspetta poi Tappo Anzi per ora va bene Posso dormire Molto meglio Così non mi prendo No non volevo farsi più Così non mi prendo Le radiazioni Armadietto Questo Gli vendiamo Un altro Fucile Un altro fucile d'assalto Con cui ripariamo Il fucile d'assalto Che non possiamo usare Per riparare il nostro Già presente Fucile d'assalto Affinché siamo Al più sopportabili Per me Scintura in pelle E' vuoto Perché ogni volta Apro le cose Whisky Vodka Frutto mutato Croccante Scatola Latte Cosa avete in frigo? Uh Si trattano bene Hanno anche il frigo Non credo funzioni Il frigo però E' solo questione Di abitudine Dei residui del passato C'è sempre stato Ah è il mio lanciafiamme Che è rimasto eretto La dimostrazione Della mia potenza E virilità Ah ok Dimenticavo Che non devo Ascoltare la musica Non ci credo Che adesso Sono troppo appesantito Mi odio Ah si Volevo riparare queste due Perché La vera domanda E' Perché siamo qui? Per i ratti talpa Me ne manca uno Mannaggia il cazzo Mine L'ho vista L'ho vista F5 Pensano di fregarmi Ma non sanno Che hanno a che fare Perché prendo punti a caso E questo Per la roba Per la roba Per la robista Ok Quello non c'è niente Questo è un ratto talpa Lo so che è un ratto talpa Dove sei ratto talpa? Oh Oh e ti Hanno imparato Usare il teletrasporto Cazzo di radiazioni Sta rendendo sempre più forti Ok sono andata a poco peso Se riesco usciamo Immagino Che noi si sia vicini all'uscita Ho diventato un super malizio Costanza Adesso stanno usare Il teletrasporto La varia del Manda Sveccia una porta ad aprire Bella Proprio dove volevo andare Stai facendo a pezzi I miei amici Maurizio Costanza E mi hai Mi hai anche rubato L'outfit Siamo vestiti uguali Non posso prendere Grande per ultimo Oh Io se non gli faccio Stata la testa Abbiamo un caso Di amofilia Ah 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 C'hanno fare Bazzi Grazie 85% Oh si E' questo che vuole vedere Ciao Matti Link Oh my god Rattitalpa Super Saiyan G69 Ah 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 Bistecca Carne Frutto Frutto Così apposta Guarda Dammi anche Tua Uh si Perché volevo migliorarlo Si che voglio riparare Sono atappissimo Ma dattimi un secondo Ok Allora adesso Facciamo così Riparazione arma Fucile da combattimento Poi Fucile da saldo Non posso ripararlo Fucile che ne mozzo Sì E siamo Siamo comunque sopra Perché ho troppe vesti Che volevo riparare Ah dimenticavo che in realtà Ho cambiato Outfit Quindi avete ragione Potevo farvi vivere Ma Oddio Non so Non so se sia meglio o peggio Ho applicato solo le braghette Che mi preoccupano Ci vediamo con le braghette La culo scoperta Va bene Abbiamo finito con tutta questa brutta gente Possiamo andarcene Via Non oggi Io mi sono perso non poco Come procede la via di Satanotus È già esplosa la città Non ancora No con molta calma Faccio tutte le quest Con più calma possibile Poi Cioè dobbiamo godercela Questa esplosione Di questa città di infami Eh no Rottami però sono un po' a tappo Sì infatti Ah buttiamo Ah devo riparare la mascara Ok Molto meglio Ah qui ci siamo stati No Cammie di ferro Che mi hanno appesantito Giusto Mina da tappo Che mi ha appesantito ancora di più Posso fare la granata dunca No Posso fare la shish kebab No Posso fare la minata No Non siete simpatici Martello da fabbro Si può usare come arma Dimmi sì Dimmi sì Sì ed è molto meglio Della mazza da baseball E pesa un fottino Ok è il momento in cui Devo liberarmi di qualcosa Abiti casual Casual Cestino Ah aiuto Magari posso mangiare Infatti Ah c'è anche uno sfidino Bene va bene Non sono venuto fin qua per Costruire nuove Armi La città non è ancora esplosa Ma ci staremo lavorando Combineremo qualcosa di interessante Che voi sappiate In Qua in Fallout 3 È possibile come in New Vegas Avere So che c'è Dogmeat Ok Ma avere follower Come personaggi Sì sì C'era coso C'era il super mutante Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Non compare Ok Non voglio fermarmi qui Un secondo di più Quindi vogliamo a Megaton A vendere tutto No lo sapevo Lo sapevo Che c'erano Dei amici vicini Lo sapevo Ho messo tipo La destinazione No Ho aperto Per sbaglio Il tab dei comandi Ok Chi va là Alto là Vengo in Quanti siete Basta che tu non sia un mirlock O Super mutante Abbiamo avuto dei brutti incontri Con i super mutanti Finora Eh Del diavolo si parla Per i super mutanti Non me la sento Va bene Fate come volete Siete i padroni del castello E io non vi rompo i coglioni Oh Acqua Ma lo voglio si Non mi ne frega Un cazzo Tra l'altro qui è tutto chiuso Sono in un vicolo cieco Devo affrontare Non ci arrivo mai Merda siete troppi La mia arma è spezzata Cosa stiamo dicendo Karma Karma Devo ragionare Un po' di munizioni ce l'ho adesso Siamo spacciati Se quello ci colpisce Diciamo addio Si è bloccato Si è bloccato Grazie all'intelligenza artificiale Dei giochi vecchi Merda Ok Il dubbio mi ha pesanti Siete troppi Siete troppi Bluetooth No sono spacciato ragazzi E ho fatto sfataggio rapido qua Dal bravo genio Fermi tutti Ho la soluzione Ho la soluzione Forse è un po' tardi La soluzione Ma ho la soluzione Innanzitutto Tancia questa cazzo di granata Non so perché ho fatto sfataggio rapido No me ne sono tirato sui piedi Eh si Mettiamoci anche Ziotopia e la vecchia fattoria Dai quanti cazzo siete Mi spiace E' morto E' morto Ci tiro un'altra granata nel dubbio Non ci credo Come ha fatto a colpirmi Non ho più le braccia Chi è l'ultimo stronzo Voi steampack Manco per il cazzo eh Boh fin qua ci siamo arrivati Voglio solo ammazzarli tutti E andarmene da qua Ragazzi che Guarda lo stronzo Mancato No Mi son fatto più male da solo Che altro Ok no Smettiamola con le granate Dobbiamo capire che forse non fanno per noi Il degenero eh In questi 30 secondi E' successo di tutto Ti prego le micro percentuali alte Abbiamo concezioni diverse Di percentuali alte Ho preso No resisti L'ho rotto il braccio Non ci voglio credere Fatemi luttare tutto Non ci voglio credere Fucile la caccia Spettacolo Tavola chiudata la lascio Fucile la cechino Si è rotto Tra l'altro Usiamo uno steampack a spregio F5 Come se non ci fossero domani Che cosa cazzo è successo Fucile la combattimento è potente A corte e media distanza Ok Lo userò In futuro Quante Cazzo di bombe ho lanciato Bella che mi riparo questo Fammi solo Vai vai Fin qua Mi riparo un sacco di roba Allora Posso? Posso Posso? Non posso Ed è male perché ho ancora uno Però aiuto C'ho della carne Giusto? Sì Mi basta Scendere No c'è un nemico Non ci voglio credere Non c'era nemico prima Dove sei? Chi sei? Cosa vuoi? Ti prego Definire queste armi storte E fargli un complimento Concordo Dov'è? Dov'è sto nemico? Mannaggia il cazzo Fammi andare via Che odio Che odio Ma ci stiamo inseguendo? In tondo? Che mi Cioè Si sta ancora girando E lui mi ha già colpito Meno male Fammelo colpire in faccia 22% Alla fine La soddisfazione La soddisfazione di far scoprire il cranio Questa cosa Abbiamo superato Non pensavo che ce l'avrei mai fatta Non rompere Guarda Sei prossimo adesso Ne vengo da una brutta giornata Non farmi arrabbiare Posso entrarti in casa? Non posso entrarti No non volevo Non volevo Non mi cazzarti Però posso scassinarla adesso Anche prima Prima non potevo Siamo arrivati No Se siamo nascosti Dentro in casa Gli prendo quello che devo prendere Ah devo aspettare Ehm Un Due Tre No Otto ore Mamma mia Adesso andiamo a incontrare La nostra migliore amica Tra l'altro Non vedevo l'ora Dimmi che siete già aperti Chi è Cara Non vedo l'ora di sapere Se il repellente funziona Ho provato ampiamente Il repellente per Rattitalpa Oh eccellente Test sul campo Rapporti dettagliati E molto impegno Che cosa posso chiedere di più? Pagami Come funziona il mio repellente chimico? Benissimo spero Te l'ho già detto Sembra che causi un'allergia fatale A Rattitalpa In pratica le fa esplodere Non credo che questo sia un letale Quanto mi aspettavo Per dirlo semplice Poveri piccoli Rattitalpa Ma cosa? Chissà se riuscirò a farne Una versione ipoallergenica Forse non funziona Non sto capendo Il concetto è accarezzarli Con una sostanza chimica O farli esplodere Perché io pensavo Che fossero fatti Addomesticati Addirittura Munti Comunque Tieni il repellente O per il tuo problema Ecco Ho delle droghe avanzate Dal lavoro sul repellente Ho la certezza Che potranno servirti A qualcosa Il fatto che io abbia associato Maurizio Costanzo A Rattitalpa E che poi le abbia detto Che si possano mungere Mi ha creato davanti agli occhi Un'immagine bruttissima Ciao Luca Oddio Sì era una spedizione Per uccidere Rattitalpa Ed è diventata La terza guerra mondiale Pazzesco Si vede che produce La droga esattamente Vuole mungere Rattitalpa Ci sono molte cose Che non sappiamo Ho esitato a chiedertelo Ma devo esaminare Gli effetti Per il secondo capitolo Dovrebbe essere tutto Quale Beh non ho mai studiato Una cavia ferita gravemente Ovviamente Puoi sopportare Un sacco di abusi La prossima volta Che ti fai molto male Voglio dire Ti fai Ok mi devo far male Wow Sei un assistente Di ricerca Formidabile Voglio dire E ora di farti saltare il cranio Non lo morirò E tutta la carogna Che sto accumulando Per quando è per il momento In cui ti farò saltare il cranio Sarò qui ad aspettarti Con un sacco Cos'è successo? Quindi non preoccuparti E procurati delle terapie Satana sei impossessato di lei Oh e fai attenzione Salute al 50% meno E subisci una menomazione Vediamo un attimo Come sono messo io? Sono menomato? Ho tre di vita di troppo Ma perché l'altro Ti vendo un attimo due cose Mi butto giù Per perdere un po' di vita A 114 tappi Allora Armi Un fucile d'assalto Anzi due fucile d'assalto Te li vendo Non hai più soldi E hai munizioni Che posso comprare Così posso venderti Sì Cosa mi interessa? In realtà un po' di tutto 32 Vabbè una sei Prendiamole Questi che non ho Prendiamoli Costa un tre però Tant'è ancora Non riesci a darmi i tappi Quindi ho un po' di munizioni a casa Ok adesso ci riesci Quindi posso tornare a venderti Ho fatto la cecchina Rotto Te le posso vendere Due mini Diciamo quattro Per ora Ancora posso prenderne Prendiamo un po' di celle d'erogia Ok Ti devo vendere un po' di roba No Siamo di nuovo sopra Ok Fantastico La missione di Meridork Sarà la più odiosa di tutte Ma non sono sicuro Dato che non ho mai finito il gioco Ok Buona caccia Buona caccia Viva Sembra di essere di nuovo Di scout Allora Devo farmi un pochino di danno Non posso parlare con gli estranei Taci Non ti ho rivolto la parola infatti A posto Moira Siamo i migliori ragazzi Siamo i migliori Eri qua Et voi la Credo di aver trovato Un nuovo modo Per cucinare La carne di scout Frega niente Parliamo di questa ferita grata Come ti senti? Una merda Oh lo so Ma è per una buona causa Non ti dimenare troppo Mentre prendo nota Come descriveresti Il tuo dolore? Come fai a fare in modo Che non ti abbatta del tutto? Il dolore è astratto Io mi concentro Sulle cose importanti Come sopravvivere Con tutte le precazioni Che conosco Non ne trovo Una data Per questo dolore Andata Proprio si adatta A satanotus Mi manca un braccio Sono i fin di vita Scusami Qualche problema Sul mio outfit Ok Ti ho anche appuntato Una piccola faccia sorridente Per tenerti su di morale Anche se dalla posizione Mi volta il figlio Dello sceriffo Tieni Prendi un po' di questa E la mia tuta Perché vieni posseduta Dal demonio a caso Ok Prendiamo la quest Speriamo che la compesa Arrata la pena Ok Non uccideremo Se la fare Per darmi uccideremo La verità dello studio Ok Sono confuso Prima mi farò spiegare meglio Devo scappare però prima Voglio vedere se riusciamo A prendere la bambolina Che dovrebbe essere In casa dello sceriffo Non posso parlare con gli strani Chi ti vuole parlare Muto devi stare Cazzo Tutti al centro Dell'attenzione Vogliamo essere 35 Oh Chi è che devo Fatti i cazzi tuoi Mamma mia Questa città Nascosto Nascosto Io ho salvato prima Ciao Ciao Dov'è la bambolina Dov'è la bambolina Mi avete detto che c'è la bambolina Eccola eccola No Non è la bambolina Dov'è la bambolina In frigo Ho perso calma Che peccato Dov'è la tengono la bambolina Qualcuno mi aiuti Non dite mi che ho sbagliato Caso Non cazzo Se ho sbagliato Caso Ho perso calma Se quanto me ne frega Ma questa è una porta Magari semplicemente Porta della baracca Porta della baracca Ok Eccola Forza aumentata permanentemente Di una Fantastico Nel frattempo Fatevi dare un'occhiata Allora il resto della casa Steam pack Non ci piace Fucile Da 15 E sono quasi al limite Col peso Ok Ora è il momento Facciamo un salvataggio Non rapido Ma normale Perché abbiamo già quello rapido Il crimine è perfetto 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 Io devo scappare No Ma il problema mi dispiace Devo scappare proprio adesso Sono mortificato Vi ringrazio per essere stati qui con me Per quest'oretta Per aver visto Un pochino Abbiamo fatto una quest Dai Tutto sommato Che poi S'è tramutata Nella terza guerra mondiale In mazzate Super mutanti In granate Che piovavano Piovevano Ogni dove Soprattutto mi rimbalzavano in faccia Devo dire che Ho una particolare abilità Per lanciarmi le granate nei piedi Ho rubato la bambolina Muachaha E E niente Dai Sono molto soddisfatto Di quello che sono riuscito a fare Vi ringrazio per essere stati qui con me Vi ricordo Che ho un canale youtube A cui Vi raccomando di iscrivervi Per vedere Video su Principalmente giochi Roguelike Per vedere anche Sims Cazzo Tale padre tale figlio però Per vedere anche Appunto video su Giochi indipendenti Roguelike E soprattutto Se vi siete persi Da live Quasi sicuramente Anzi sicuramente Esporterò Nel tempo Quindi non aspettatevelo domani Però esporterò Da twitch Su youtube I frammenti di live Vi ringrazio per essere stati con me ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao